terzo ed ultimo incontro di Tommy bravo Tommaso sempre un po' puliti senza sofferenze colpo secco colpo secco colpo secco colpo secco colpo secco questo significa decima la medaglia d'oro per Tommy senza neanche una penalità grande Tommaso grande Tommaso grande Tommaso facciamo meglio di qualche decimo di combattimento prolunghiamo la ripresa per dimostrare che gli altri combattimenti non sono altrettanto puliti e posso arrivare a come? si Grazie.